Bella ragazzi, prima del video mi raccomando non dimenticate di dare un occhio al primo link in descrizione ragazzi Instant Gaming dove troverete un sacco di videogiochi a prezzi scontatissimi Ricariche PS4 Xbox super scontate, idem per gli abbonamenti e troverete anche i bundle di Fortnite Mi raccomando, primo link in descrizione, Instant Gaming Ehi, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di tutto ciò che sta per accadere Su Fortnite ragazzi sarà un video super super interessante Vi ricordo anche che siamo in collaborazione con gli amici di Fortnite Italy ragazzi Il gruppo Telegram che vi invito ad andare a controllare trovate il link in descrizione E ragazzi come già vi stavo anticipando ci sarà davvero da ridere In questo video ragazzi parleremo molto più dettagliatamente del nuovo evento Vedremo videogameplay, vedremo immagini, parleremo anche dell'arrivo della nuova arma su Fortnite Che non sarà l'UZI quindi non è quello che pensate E ovviamente ragazzi non mancheranno una svagonata di leaks interessantissimi Che vi terranno aggiornati in tempo reale Vi ricordo però ragazzi di lasciare un bel pollicione in su Se ancora non lo avete fatto Mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento Nessuna notifica sulle mie live e sui miei video Ma prima ragazzi vi devo fare la domanda Ve la devo fare perché mi piace un sacco leggere i vostri commenti qui sotto nel video E la domanda ragazzi è davvero semplicissima Ti piace la nuova skin? Quella che è uscita oggi nello shop La prima del set che vi ho liccato nel video di ieri A me personalmente piace Non è assolutamente brutta È una skin semplice Anche il prezzo d'altronde 800 V-Bucks Non è assolutamente pesante Secondo me un pensierino Ce lo si potrebbe anche fare Ma quindi Ciancio alle bande E vado alle ciance Andiamo subito a parlare del primo Nooo No Xyuder dai codici Nooo Sì ragazzi Sì Devo farveli vedere Perché questi ragazzi Sono delle stringhe di codici Delle sottocartelle Che vediamo nei file di gioco Che mostrano la nuova arma E se sapete l'inglese ragazzi La nuova arma si chiamerà Medieval Sword Quindi Il ritorno di una spada Su Fortnite Non sarà ragazzi Una spada Come quella che abbiamo visto Come l'Infinity Blade Non dovrebbe avere Dei poteri speciali Dovrebbe semplicemente Essere Una spada Quindi un'arma Da corpo A corpo E abbiamo Molto di più ragazzi Che i suoi Soli Nomi Abbiamo anche La cartella Con i suoni Perché sono Già presenti Anche i file audio Nel gioco Li volete sentire? Li volete sentire? Ve li faccio sentire Sentite un po' ragazzi Sentite un po' che roba Questi ragazzi Erano tutti i suoni Relativi Alla spada Quindi Quando la sfoderi Quando colpisci l'aria Quando colpisci Un oggetto Insomma ragazzi Riascoltateli Se volete ascoltarli Con calma Seguiteli in ordine E scoprirete Che suoni sono Non vi basta Volete ancora di più? Volete vedere la spada? Vi faccio vedere la spada Guardate un po' Mi tengo Mi tengo Mi tengo Mi tengo Questa ragazzi È l'immagine originale Della spada In arrivo Su Fortnite Meravigliosa A me piacciono le spade Mi piacciono davvero Tantissimo E questa Non è assolutamente Brutta Come vediamo Sembra davvero Una spada Normalissima Non dovrebbe avere niente Tra i poteri speciali Staremo ovviamente A vedere Molto probabile Che arrivi con La prossima patch Di martedì prossimo Molto probabilmente Andiamo avanti ragazzi E parliamo invece Strong Di questa roba qua Ah che cavolo è Questa roba qua Allora ragazzi Sapete Della sfera di ghiaccio Vi ho detto che parlavamo Dell'evento Adesso parliamo dell'evento La mega sfera di ghiaccio Che c'è sopra Picco Polare Allora Se puntiamo un'arma Sulla sfera di ghiaccio Sentiamo Un rumore Di sottofondo Lo sappiamo tutti No? Beh ragazzi Mettendo Il rumore di sottofondo Nello spettrogramma Guardate un pochettino Che cavolo viene fuori Sì ragazzi Viene fuori La testa Del re Dei ghiacci Quindi Mamma mia È ovvio Che sia Come si dice Inerente Al re dei ghiacci A quello che potrebbe Succedere La sfera Guarda caso Di ghiaccio Con l'ultima skin Del pass battaglia Ma non è finita Qua ragazzi Perché ci sarà Un evento E sarà un evento Incredibile Voglio farvi vedere Ragazzi Una parte Di gameplay Questa ragazzi È stata trovata Nei file di gioco Ed è Quello che vedremo Con I prossimi giorni Di fortnite Quindi Nella sfera Di ghiaccio Ci sarà Il re Dei ghiacci Ragazzi Incredibile Incredibile Come vedete La sfera è molto diversa Da come la stiamo vedendo Noi In questi giorni C'è del fuoco blu Che gli sta intorno E nella parte alta C'è proprio lo stendardo Che è lo stesso disegnato Sia sul torace Della skin Del re dei ghiacci Che Nel castello Ma non è finita qua Ragazzi Perché c'è una roba Davvero Incredibile Se guardiamo Tra le mani Del re dei ghiacci Vediamo Guardalo lì Tiene in mano Qualche cosa Ragazzi Tiene in mano Una roba Un po' Strana Adesso Vi farò vedere Con calma Che cavolo è E non so Se sarete contenti Di vederlo Perché ragazzi Dovete sapere Che fra poco Non si sa Se come è successo Per il razzo Arriveranno Delle immagini Nelle televisioni Di tutta la mappa Di Fortnite Secondo me Sì Vedrete ragazzi Una roba del genere Questa sarà La terza Immagine Quindi Il no Signal Ci sarà un problema Di segnale E come vedete Sotto c'è La testa di corna Lì Il re dei ghiacci Ma l'immagine Principale Che probabilmente Sarà trasmessa È proprio Questa ragazzi Wither Warning Allerta Meteo Quindi Ci sarà Un Avviso Da parte Delle televisioni Che allerteranno I giocatori Che potrebbe Arrivare Nella mappa Che arriverà Nella mappa Una tempesta Di neve Come vedete Lo capiamo Benissimo Dall'immagine Dopo ci sarà Questa immagine Invece Che è quella Dove dice Bread and milk Sold out Pane e latte Finiti Non sappiamo In realtà Se c'è da riderci Sopra O se possa Essere In realtà Un avviso Per quello Che potrebbe Succedere Nella prossima season O al termine Di questa season Quindi Una carestia Non credo Sinceramente Non credo Però è molto Molto più interessante Questa immagine E dopo di questa Ci sarà invece Come vi anticipavo Appunto Quella dove dice No signal Ma ragazzi Questo evento Sarà affiancato Da una serie Di sfide Incredibili Ragazzi Che ci regaleranno Il wrap Quindi la nuova Camo Per le armi E per i veicoli Che si chiama Blue metallic Ci regaleranno Dei punti Esperienza E sappiamo anche Che ci regalerà Un deltaplano Che si chiama Winter's throne Il trono di ghiaccio In poche parole Come vedete Queste Sono Tutte le sfide Che dovremo Completare Non sappiamo Ancora tutti i premi Ne sappiamo Solamente tre Ma se così Fossero Sono davvero Tantissime sfide Questo potrebbe Voler dire Che l'evento Durerà Parecchio Davvero Tanti giorni E prima di salutarvi Ragazzi Vi lascio Con l'immagine Che vi avevo anticipato Prima Mentre vedevamo Il gameplay Questo ragazzi E ciò Che è presente Tra le mani Del re dei ghiacci Intrappolato Nella sfera Eh si ragazzi Eh si E' proprio Un cubo Un piccolo cubo Ragazzi Che Non sappiamo Mi viene da piangere A pensare al cubo Non ce la posso fare Non ce la posso fare Non sappiamo Se sarà Quello che tutti conoscevamo Kevin The Cube O sarà Un nuovo cubo Sta di fatto Che è lì presente Nelle mani Beh ragazzi Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Un miliardo Di pollicioni In su Iscrivetevi In tantissimi Al canale Noi Ci vediamo In live Ciao Noi Noi Grazie a tutti.